Case della Salute in Calabria, istruzioni per l'uso. Il commissario per il piano di rientro dal deficit sanitario Giuseppe Scopelliti ha preso atto del regolamento interno del tavolo di partenariato del progetto integrato di sviluppo denominato appunto Rete Regionale delle Case della Salute. Il tavolo è diretto dal presidente della Giunta calabrese Scopelliti che decide anche l'ordine del giorno delle sedute. Con lui siedono gli assessori regionali alla programmazione e al lavoro Mancini e Stillitani, i cinque dirigenti ASP, i sindaci dei comuni dove saranno realizzate le otto case della salute calabresi e rappresentanti dei sindacati di categoria e del terzo settore. L'organismo così composto ha il compito di organizzare la rete dei presidi territoriali attraverso riunioni periodiche da cui scaturiranno decisioni prese con il metodo del consenso ovvero sulla base di un accordo generale costruito dai partecipanti e frutto del dialogo territoriale. In assenza di consenso le relative decisioni saranno assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti. A garantire il rispetto delle esigenze dei territori colpiti dalle riconversioni degli ex presidi ospedalieri in centri di accoglienza primaria o case della salute la presenza nell'organismo dei sindaci di Praia Mare, Trebisacce, San Marco Argentano, Cariati, Mesoraca, Chiaravalle Centrale, Scilla e Siderno. La realizzazione delle case della salute in Calabria è finanziata con somme del FESR, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013. Attualmente sono disponibili poco più di 67 milioni di euro stanziati dal POR, il Programma Operativo Regionale, mentre in seguito bisognerà sbloccare altri 60 milioni di euro del PAR Calabria, ovvero il Piano Attuativo Regionale. Il tutto a conclusione del progetto di riorganizzazione della rete per un ammontare di circa 128 milioni di euro.